La risposta in breve è sì. Volevo agganciarmi un attimo alla domanda presente, alla risposta del professor Navarra, per aggiungere un elemento, cioè se la stessa persona, se io prendo oggi una compressa da 100 mg sempre di acido acetilsalicidico e dopo un'ora o due mi faccio dei prelievi, avrò una certa concentrazione. Se domani o dopodomani sempre io dalla stessa scatola prendo la stessa compressa alla stessa ora del giorno, difficilmente troverò la stessa identica concentrazione al millesimo, perché ognuno di noi è qualcosa in movimento e un giorno il mio stomaco si è svuotato un po' più lentamente, un altro giorno la sera prima avevo mangiato qualcosa di più. Questa variabilità che è intrinseca in ogni persona riguarda anche lo stesso farmaco, la stessa scatola che noi prendiamo da anni. È evidente che non si può chiedere al farmaco equivalente di essere ancora più preciso di quanto la mia variabilità lo costringa a essere. Ed è quindi questo che completa questa necessità di questo studio, che sono studi di una specie di polizza di assicurazione. Ti voglio assicurare che anche se il farmaco è prodotto con le stesse regole, nello stesso modo, nella stessa quantità, veramente mi aspetto che abbia lo stesso effetto nella persona. Quindi io vorrei rispondere sì, ma non è necessario, nel senso che i due farmaci nascono sostanzialmente prodotti con le stesse tecniche. Per arrivare a un prodotto finito che ha una uguale qualità produttiva, perché ci sono delle regole, non si può inventare un modo col pestello e il mortaio di fare i farmi, ci bisogna rispettare delle regole produttive. Quindi in sostanza io sto parlando veramente virtualmente della stessa cosa, per cui non devo vivere questi come due farmaci che si somigliano, due fratelli molto simili ma in fondo non uguali. Io sto parlando sostanzialmente della stessa cosa, per cui mi devo aspettare sicuramente la stessa sicurezza in termini di effetti collaterali, in termini di eventi avversi, che mi poteva dare quello da cui siamo partiti. E questo è molto importante, altrimenti percepiamo sempre queste cose come due cose che si somigliano, e io quella più economica la devo prendere per motivi di sostenibilità, di economia, ma non è proprio quello che vorrei io, invece sostanzialmente stiamo prendendo la stessa cosa. Assolutamente non sarebbe proponibile commercializzare, avere il permesso di vendere un farmaco definito come equivalente, in cui si possa sospettare un profilo di efficacia un po' meno buono o al contrario anche troppo più buono, perché magari rispetto al farmaco di partenza dopo vent'anni le tecniche di produzione sono migliorate, riusciamo ad avere un prodotto ancora più performante, ma il famoso test di bioequivalenza mi servirà anche a dimostrare che non sia troppo più efficace del punto di partenza e che quindi mi mette in condizione di aspettarmi la stessa efficacia.